Dare stabilità e rendere più solide le basi dell'umana convivenza, allontanando il pericolo di colonizzazioni ideologiche. Papa Francesco indica il valore dell'alto compito al quale sono chiamati i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura ricevuti in Vaticano. Suggerisce il fondamento offerto dal cristianesimo, ovvero l'amore di Dio e per il prossimo. Ricorda che da queste basi si possono mettere argini all'espansione della criminalità, nell'economia e nella finanza e la piaga della corruzione che colpisce anche le democrazie più evolute. È necessario, sottolinea il Papa, intervenire non solo nel momento repressivo, ma anche in quello educativo, nella promozione della persona umana e della pacifica convivenza. Poi Francesco pone all'attenzione il tema dei diretti umani, evidenziando che in questa categoria si tende a farvi rientrare pratiche e comportamenti che invece di promuovere e garantire la dignità umana, in realtà la minacciano o addirittura la violano. La giustizia aggiunge, non si fa in astrato, ma considerando sempre l'uomo nel suo valore reale a immagine di Dio. Infine un ricordo del giudice Bachelet, ucciso 35 anni fa, esempio di cristiano e giurista al quale guardare nel servizio del bene comune.